E come hai visto, al contrario dell'altra squadra, loro anche rischiano molto perché hanno spesso delle formazioni molto chiuse, quindi molto vicine e rischiano di aggrovigliarsi. A livello individuale vittoria di Anna Bessonova davanti a Giulietta Cantalupi e Alina Maximenko mentre Federica Febbo ottiene il quarto posto, Martina Licata-Terranova settima posizione per lei, Stefanesco Quinta, chiedo scusa, mentre a livello di squadra primo posto per l'Italia davanti all'Ucraina. Netto il distacco, 455-375, conto a 453-300. Grazie a Isabella Zonino-Reggio per il commento tecnico, Marco Sabatini per la sincronizzazione e Nea Cioffi per l'organizzazione e la linea. Torna allo studio.